Si deve studiare per sapere queste cose, ma non studiare accademicamente, ma studiare dopo, imparare sui libri, studiare l'alchimia, l'antroposofia, la filosofia, la scienza, l'agricoltura e tutte queste cose qua, poi trovano riferimenti certi fra loro, li hanno sempre trovati dal 1200 in poi e dunque anche oggi ce li siamo forse dimenticati, ma erano lì.